Salve a tutti ragazzi e benvenuti su Elite Gaming, benvenuti su Destiny in questa nuova puntata dei drop settimanali dove vi mostrerò quali sono stati i miei primi drop post aggiornamento di aprile il grande aggiornamento che avrebbe reintrodotto le prigioni degli anziani portandole all'anno 2 ed essenzialmente vi mostrerò quello che sono riuscito a ottenere nelle circa 3 ore di stream che ho fatto ieri sera su Eurogamer il motivo per cui parlo a bassa voce semplicemente è che circa mezzanotte ho finito poco fa di streamare una doccia e subito all'opera partiamo dal presupposto che ho aperto due tesori pregiati, i nuovi box che contengono dei nuovi drop ho completato ben 3 volte la prigione degli anziani a livello 42, una volta a livello 41, la missione di Varix e l'assalto di Malok in pratica ho completato tutto ciò che c'era di nuovo e i drop sono stati in ordine sparso il ricordo regale, nuovo fucile d'assalto della regina, abbastanza buono, categoria fucile d'assalto con impatto elevato da Varix poi ho droppato il bellissimo mano del giudizio, ossia il nuovo fucile da ricognizione dei caduti anche con dei perk abbastanza carini tra l'altro, vi porterò comunque una review nel fine settimana e questi entrambi a 322 di luce, un signore dei lupi a 320, ovviamente la versione anno 2 la zanna timore, ossia la nuova spada leggendaria con lo stile dei corrotti di cui vi ho parlato già nel video caricato circa un'oretta fa in cui vi ho spiegato esattamente come poterlo ottenere spostandoci invece a parlare delle armature i guanti della veste specter per lo stregone che ho subito depositato perché naturalmente sto usando un cacciatore la veste specter, il torace della veste specter per il mio bel cacciatore e in un pacchetto di Varix il sangue del vigilante, ossia il torace a 323 di luce il torace delle prigioni degli anziani anno 2, ovviamente inoltre un altro drop che mi ha reso davvero molto molto felice, trovato in un tesoro pregiato è stata la stella calante, ossia una nuova nave introdotta con questo aggiornamento molto carina a parere mio e penso che per un po' la utilizzerò diciamo che nel complesso mi ritengo soddisfatto per quanto riguarda il numero dei drop ma per niente riguardo la qualità, visto che ha al massimo droppato 323 che visto il nuovo livello di luce massimo che è 335 è relativamente poco e a voi è andata meglio? vi invito a farmelo sapere qui sotto con un commento e a farmi sapere quali sono stati i vostri primi drop di questo aggiornamento di aprile come al solito io vi ringrazio per la vostra attenzione vi invito a lasciarmi il vostro feedback e noi ci sentiamo al prossimo video ciao a tutti ragazzi ciao a tutti